a Kramatorsk, nell'Ucraina occidentale, e si rimpallano ancora una volta le responsabilità. I russi hanno subito smentito, mentre gli ucraini ovviamente hanno detto che sono state le forze di Putin. Quindi questi pare due missili sparati sulla folla, in fila alla stazione per fuggire dalla guerra, sono stati sparati da chi? Da Roma è un po' difficile stabilirlo. Diciamo che tutto lascia pensare che l'operazione sia di marca russa, anche se i russi smentiscono. Però sapere la verità su queste stragi durante una guerra è sempre un po' un terno all'otto. Personalmente credo che assisteremo purtroppo diversi di questi episodi per vari motivi. Primo perché la guerra sta per entrare in una fase ancora più cruenta e si combatterà sempre più nelle città. E in secondo luogo perché la Russia userà sempre di più l'arma missilistica e comunque la forza aerea per compensare la relativa debolezza delle sue forze su terra. Mi spiego. Una buona parte, forse la maggioranza, dei soldati russi che combattono al fronte sono soldati di leva, che non hanno una preparazione specifica per delle guerre urbane dove succedono le cose più cruente che si possono immaginare. Dall'altra parte vi sono delle forze armate ucraine che sono con un morale particolarmente alto e soprattutto sono molto bene armate. Hanno avuto degli armamenti importanti non solo adesso ma negli anni precedenti. Quindi la battaglia decisiva per il Donbass che dovrebbe dal punto di vista russo chiudere in qualche modo almeno questa fase della guerra e permettere che la parata del 9 maggio, la famosa parata della vittoria, che viene ripetuta ogni anno per celebrare la vittoria sui nazisti, possa essere anche quest'anno una parata sulla vittoria, è un appuntamento difficile da mantenere. Nel senso che potrebbe essere anche una parata della vittoria che corrisponde a una sconfitta tattica sul terreno. Per i russi. Sì.